Non tutti sono sordi, Gianni Letta, Piotr Ferdinando Casini, Arturo Parisi, Alfredo Mantovano, Massimo Cacciari, Carlo Giovanardi, Valdo Spadini e Franco Monaco. Sono tra quelli che hanno mostrato di comprendere passaggi delicati e in silenzio, senza clamore, senza farne un uso politico. Hanno cercato di farsi carico del disagio. Una buona giornata fu quando nel luglio del 2004, finalmente in tempi brevissimi, dopo anni d'età, provarono all'unanimità in commissione la legge con le nuove norme in favore delle vittime, del terrorismo e delle stragi. Poco dopo però iniziarono i problemi di copertura finanziaria e per molti a lungo i risarcimenti restarono all'intera morta. Sono passati tre anni e la legge non è stata andata ancora a completa attuazione. Lo sfidimento ha portato alcuni a compiere il passo che mai avrebbero voluto muovere. Fare causa allo Stato. Questa sensazione di disinteresse ed abbandono è la causa che coltiva il malessere. Poi il caso, la disattenzione e una mancanza evidente di sensibilità politica, storica e culturale, producono una serie eccezionale come quella nell'altra nei primi sei mesi di governo dell'Ulivo. Si parte con la grazia a Ovidio Bonpressi concessa da Giorgio Napolitano, pochi giorni dopo il suo insediamento a Quirinale, un'iniziativa istruita da Cario Azzeglio Ciampi, arrivato in porta da tempo, sulla quale il nuovo presidente si è limitato ad apporre la sua firma. Nessuno ci dice nulla, sono il motorino in via Tomatomaccelli di fronte alla sede.